Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Franco Bernabé, poi ti do subito la parola Lina Palmerini, perché questo è un tema molto delicato. Certo che è così. L'Italia ha una popolazione di 54 milioni di abitanti, in decrescita fortissima. Ha 5 milioni di immigrati che nella maggioranza hanno un lavoro abbastanza non precario. Quindi ha un rapporto immigrati-popolazione di un po' meno o intorno al 10%, che è fra i più bassi a livello europeo. Tutti gli altri hanno più del 10%. La Germania ha 10 milioni di immigrati, è una popolazione più grande della nostra, ma comunque è sempre una popolazione... Quindi lei dice che bisognerebbe accoglierli, accoglierli... Sì, c'è una politica attiva dell'immigrazione. Purtroppo noi abbiamo un'immigrazione di bassa qualità, a bassi livelli di istruzione. Deve essere integrata. Quindi io condivido quello che dice Bianchi.